Terza serata della 67esima edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo è stata la serata delle cover, ma anche delle eliminazioni per quanto riguarda i big. Per il primo aspetto, Ermal Meta con Amara Tenamia, brano portato al successo da Mino Malunio, ha vinto la serata, secondo posto per un'emozione da poco di Paola Turci e terzo posto per Signor Tenente di Marco Massini. Tra l'altro alla fine dell'esibizione del cantante c'è stata un'ovazione in ricordo di Giorgio Faletti. Nestle, Baggio e Rage e Luzi invece sono stati eliminati definitivamente dal Festival per quanto riguarda la categoria dei big e avanzano alla finale di sabato. Clementino, Bianca, Atzei, Giussi, Verreri e Ron. La serata si era aperta con il festeggiamento per il piccolo cuore dell'Antoniano di Bologna che festeggia i 60 anni, riproponendo grandi successi. Poi anche altri eventi sono stati in importanti come l'orchestra del Reciclados de Cateura, formazione paraguayana che utilizza musica con materiali riciclati pressi dalla discarica. E poi anche la grande partecipazione di Mica, il quale ha messo in evidenza i suoi più grandi successi e ha detto che la musica può cambiare il colore della mia anima. Ancora una volta la copertina di Crozza fa discutere, questa volta si è vestito come Papa Francesco. Intanto c'è attesa per la finale dei giovani in programma venerdì e per quanto riguarda gli ascolti c'è stato un piccolo calo. Mimmo Siena, Speciale News.